Signori, Umana Venezia, questo è il nome della seconda finalista del campionato italiano di basket ragazzi, mamma mia, mamma mia, che partita! La squadra di Meosacchetti che non esce a testa altissima come gara 4, però ha regalato una prima parte di partita, in particolare il primo quarto, a un Umana Venezia devastante nel primo e nel terzo quarto. Secondo quarto che mi sembra ci fosse stato un parziale di 21-22 o 22-23, non ricordo comunque, in favore sempre dell'Umana, che comunque ha mantenuto la partita sotto controllo, ha fatto vedere di essere più in forma, ha fatto vedere di essere meno stanca e adesso ragazzi, mi sembra da lunedì inizia la finale scudetto proprio contro la squadra allenata da Renato Pozzecco, da Gianmarco Pozzecco ragazzi. Mamma mia, è stata una dimostrazione di forza incredibile quella dell'Umana, Umana che comunque ha giocato molto molto bene a livello di triple e molto molto meglio, troppi errori al tiro per la Valoli e stanno facendo rivedere qui la tripla del numero 6 di Venezia, di Venezia ovvero, ovvero Bramos che erano a meno 7 le due squadre, poi lui fa quella tripla, vanno a meno 10 ragazzi, vanno a meno 10 e là la partita praticamente si conclude ragazzi. Comunque, cioè, stanno scorrendo le statistiche finita 69-79, Cremona ha fatto 4 su 25 da 3, una statistica immonda, ha fatto cagare, intanto c'è De Raffaele e le interviste, sarà una serie tutta da vivere, quella fra l'Umana Venezia e fra il Banco di Sardegna-Sassari. Umana Venezia che parte con il fattore campo a favore, quindi le prime due gare si giocheranno in Terra Veneta, mentre invece si arriverà al Palasera di Migni per gara 3 e gara 4, poi si tornerà a Venezia per gara 5, gara 6 invece sarà fatta di nuovo al Palasera di Migni, invece gara 7, eventuale gara 7, naturalmente sarà in casa di Venezia. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, se fosse così like, mi piace, iscrivetevi al nostro canale, abbiamo anche creato la pagina Instagram, link in descrizione, ciao!